segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te fila e le farò velocemente le chiedo di essere altrettanto veloce nelle risposte perché abbiamo molte cose cui parlare la prima questione è l'avanzata in donbass dei russi che in molti dicono prosegue lentamente più lentamente di quanto si immaginasse è perché trovano la resistenza gli ucraini o invece per esempio in qualche maniera stressare gli ucraini allungare i tempi a putin conviene perché una autarchia li regge tempi lunghi mentre magari le democrazie fanno più fatica poi cominciano a dividersi anche sugli aiuti da mandare prima domanda si rispondo subito comincerei dalla notizia di poco fa che il bundestag parlamento tedesco ha votato con stragrande maggioranza 586 a favore 100 contrari per l'invio delle armi a ucraina è una decisione veramente storica per la germania non c'è perché germania però questa unità poi si scontra appunto con il fatto che nelle democrazie cominciano ad esserci poi delle resistenze e quindi magari putin fa affidamento su questo esatto però per la germania appunto che aveva sempre una sorta di titubanza di prendere questi tipo di decisioni insomma è un passo veramente storico adesso quanto alla domanda su domassi effettivamente la seconda fase annunciata va con i tempi molto cauti perché l'avanzamento e fino adesso è stato da 15 a 20 chilometri soprattutto sulle zone e che non sono popolate cioè da dove sono evacuati gli ucraini ancora durante la prima guerra del 2014 quindi le zone in cui l'ucraini dal punto di vista strategico militare non hanno neanche l'interesse di combattere in quel punto lì i russi perché l'avanzamento in quella quindi sono avanzati ma neanche hanno trovato una particolare resistenza in alcuni punti proprio perché non l'avanzano lentamente è una scelta è una scelta militare una scelta militare e questa è la prima risposta desta preoccupazione il fronte sud ovest se mi fate vedere la mappa dell'ucraina ci spieghiamo bene sappiamo il donbass è ad est ma se scendiamo giù verso il basso a sud ovest troviamo micolaiv da dove era collegata elena kerson odessa allora per lungo tempo noi ci siamo detti la vera intenzione di putin non è andarsi a prendere anche quella quella zona ma è fare un'operazione di distrazione da un po di tempo da un po di giorni a questa parte anche con gli attacchi che stanno avvenendo in transistria la preoccupazione è cresciuta è un obiettivo o è solo un elemento di distrazione oggi è l'obiettivo strategico a medio lungo termine a oggi è una decisione tattica militare cioè in questi giorni l'ucraina sta conducendo una controoffensiva intorno a kerson con obiettivo di riprendere kerson perché a person e melitopol sono occupati dalla russia visto che sono riusciti di prendere alcune province intorno a kerson la russia con obiettivo rallentare la controoffensiva l'ucraina cerca di creare tra virgolette i casini in transnistria per costringere l'ucraina di mandare almeno la metà di quelle truppe concentrati su kerson a rafforzare i confini fra transnistria e odessa quindi questo sarebbe proprio quindi la transnistria potrebbe essere il diversivo però c'è la volontà di arrivare invece fino ad odessa c'è sicuramente allora è uscito anche sul commerce center l'intervista con il generale russo che come obiettivi ha menzionato proprio non solo don base crimea ma quindi non solo un corridoio per la crimea dall'asov ma corridoio addirittura fino a transnistria e quindi prendere attraverso adesso arrivo da alessandro de angelis però prima aggiungiamo notizie alessio si innanzitutto la